Il primo obiettivo è quello di presentarsi insieme alle europee così da essere più competitivi ed ottenere una rappresentanza a Strasburgo. Il secondo obiettivo è quello di cominciare a ragionare con gli alleati del centrodestra in vista di una possibile futura alleanza non solo elettorale ma anche di governo. Ne ha parlato l'eurodeputato Raffaele Fitto, leader nazionale di direzione Italia in Molise per un incontro con Michele Eorio. Abbiamo raccolto l'appello che Giorgia Meloni ha lanciato nel mese di settembre durante la sua tradizionale festa di Atreio a Roma. Abbiamo aderito a questo appello che prevede di mettere in campo un progetto politico nuovo per un soggetto che sia conservatore e sovranista, che possa guardare non solamente le prossime elezioni europee ma che sia invece un punto di riferimento alla costruzione per i prossimi anni. Il centrodestra ha bisogno di essere rinnovato e ristrutturato, quello che noi stiamo cercando di fare va in questa direzione. Giorgia Meloni ha aderito al gruppo europeo dei conservatori del quale sono vicepresidente e abbiamo messo insieme questo lavoro che insieme anche a tanti altri amici che stanno aderendo a questa iniziativa sono convinto che possa essere un punto di ripartenza e di grande rinnovamento del centrodestra. Per l'eurodeputato la crisi nei rapporti tra i 5 Stelle e la Lega verrà fuori appena arriverà in Parlamento la questione sul federalismo da concedere alle regioni del Nord. Su quell'argomento i grillini difficilmente abbasseranno la guardia mentre Salvini non può perdere la faccia nei confronti dell'elettorato del Nord. È evidente che questo tipo di progetto e questa alleanza del centrodestra deve fare conti anche con una situazione che è quella di questi giorni. Noi ci auguriamo che questo governo interrompa il suo percorso e che la Lega torni alla posizione coerente di un centrodestra unito per quello che abbiamo lanciato durante le ultime elezioni politiche. Lo dico anche per quello che sta accadendo in questa manovra perché poi fino a che nei primi mesi dell'azione del governo ne sono utilizzati i provvedimenti e dichiarate le questioni sui temi sostanzialmente identitari dalla sicurezza all'immigrazione. Vi è stata una sintonia con l'elettorato. Adesso che si è affrontato il tema dei temi economici, delle questioni economiche invece cambia un po' lo schema. Siamo reduci in queste ore da una manovra nella quale il governo aveva dichiarato fuoco e fiamme e guerra alla Commissione Europea e poi si sono fatti scrivere dalla Commissione Europea la manovra, un po' una furia francese e ritirata spagnola. Situazione particolarmente non stabile anche in Molise dove la maggioranza di centrodestra che governa sembra coesa e compatta ma così non è. Il centrodestra ha bisogno di essere cambiato rispetto al passato. Tutto quello che sta avvenendo nel Paese è sotto gli occhi di tutti dal punto di vista politico. La nostra iniziativa io credo che dia forza ad un nuovo centrodestra che abbia più aderenza con la propria identità, i propri programmi e le proprie prospettive. Questo vale a livello nazionale ma vale anche a livello regionale dove regna un po' di confusione e credo che la semplificazione delle posizioni politiche sia, dia più forza ai risultati che questo governo può portare a casa perché ce n'è proprio bisogno. Parliamo di regione Iorio, lì l'equilibrio è altamente instabile, c'è questa situazione di incertezza, calcherete la mano su qualcosa o no? O state calmi per il momento? Noi per il momento guardiamo a portare a casa alcuni risultati di cui la regione Molise ha bisogno. Certo è difficile la composizione della coalizione d'altronde con tutte le liste che sono state formate non aiuta a portare avanti i progetti omogenei. Io credo che la semplificazione sia un fatto di forza e quindi la nostra iniziativa va in questa direzione.